chiedetevi sempre a chi giova, chiedetevi se quello che è accaduto sabato era funzionale a noi o piuttosto a una sinistra che facendo degli improbabili accostamenti è arrivata a dire che Fratelli d'Italia oggi primo partito italiano è un partito fuori dalla dinamica democratica, fuori dall'arco costituzionale, fuori dalla democrazia repubblicana e quindi un partito eversivo e quindi a norma di legge un partito che andrebbe sciolto perché la sinistra italiana è così, siccome non può batterti nelle urne ti scioglie, ti vuole fare sparire o ti vuole dipingere come un mostro e beh però è un gioco che conosciamo molto bene, questo di chi non potendo rendersi presentabile cerca di rendere il proprio avversario più impresentabile, è impossibile essere più impresentabili di questa sinistra, fortunatamente è impossibile e io le lezioni di morale da quelli che esaltavano terroristi come Cesare Battisti, da quelli che intitolavano le sale a Carlo Giuliani, da quelli che oggi ci raccontano che è un mito Mimmo Lucano, uno che si fregava i soldi per gli immigrati per farci gli affari suoi, non me le faccio fare, nessuno di noi deve farsele fare.